Giornata romana molto importante, abbiamo avuto modo di affrontare in anci e non solo in anci il tema del decreto legge sicurezza urbana dove abbiamo sottolineato e sottolineeremo molto nei prossimi giorni con una serie di iniziative con i comandanti delle polizie locali di tutte le città metropolitane e anche i sindaci che non si possono dare responsabilità senza dare adeguati poteri quindi c'è bisogno di un rafforzamento delle polizie locali, il riempimento degli organici se si considera che la sicurezza urbana viene affidata sempre di più anche ai sindaci e quindi alle polizie locali è necessario che le donne e gli uomini delle polizie locali d'Italia vengano inseriti nel sistema delle forze di polizia del nostro paese quindi con tutti gli onori e gli oneri, quindi anche ad esempio l'accesso alle banche dati, poter avere sistemi adeguati radiotrasmittenti, personale adeguatamente formato, organici come dicevo prima completati e quindi c'è preoccupazione da questo punto di vista e faremo diverse iniziative nei prossimi giorni di cui mi farò carico anche io come delegato legalità e sicurezza del Lanci poi ho fatto alcuni incontri importanti anche con esponenti importanti del governo per fare il punto su tanti temi tra cui il decreto antilocali che ci auguriamo venga quanto prima licenziato dal Consiglio dei Ministri dove ci attendiamo norme importanti per le città in piano di riequilibrio per un allentamento dei vincoli nei confronti delle città e anche la possibilità di spendere per le città che hanno risorse da poter impiegare e così da questo punto di vista anche metteremo in campo una serie di azioni politiche importanti come Anci e anche singolarmente come rappresentanti delle varie città e poi si è potuto fare il punto anche per cercare di poter avere finalmente un allentamento sul turnover perché tutte le città hanno sempre di più il problema del personale che va in pensione e che non si può assumere insomma quindi abbiamo fatto una serie di ragionamenti e poi è stata anche l'occasione per mettere a punto i progressi che si stanno facendo su piani strategici della nostra città da Bagnoli ad altri Lo Stato deve investire in risorse per la sicurezza risorse umane, risorse materiali e risorse economiche appena entrerà in vigore il decreto legge sulla sicurezza pubblicato in gazzetta ufficiale subito mi farò anche promotore per l'immediata convocazione di questo tavolo congiunto previsto tra prefetto e sindaco della città metropolitana in cui sempre di più la sicurezza deve essere partecipata deve coinvolgere il territorio che insieme è previsto la formazione dell'ordine del giorno quindi noi abbiamo proposte che vanno dalla videosorveglianza al controllo del territorio ma quando ci sono armi o chiamiamole stese o cose di questo tipo non può che intervenire lo Stato con tutte le sue articolazioni non possono i cittadini o i presidenti di municipalità o il sindaco andare a ricercare armi nelle case dei delinquenti questo è proprio un compito dello Stato chiedeteci tutto ma non chiedeteci di andare a trovare la parte lo deve fare di più grazie a tutti grazie a tutti